Adesso la senatrice Petrucci per dirmi che comunque sono in 3-4 della nostra commissione che stanno votando e quindi il senato fanno fatica. Avverto che se non vi sono obiezioni la pulizia dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sui obiettivi della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione di Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, che ringrazio la presenza. L'audito è accompagnato dalla dottoressa Elisabetta Mancini, capo della segreteria. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Avverto inoltre il nostro ospite che nella presente audizione sarà dato un resoconto stenografico e che se lo riterrà opportuno, consentendo la commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che, in tal caso, per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta sui obiettivi della Camera dei Deputati che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito inoltre il nostro ospite a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito del programma di gestione deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 25 ottobre 2023, che mira ad approfondire la questione di carattere generale sulle materie oggetti di inchiesta e i sensi della legge istitutiva della commissione. In particolare, la commissione è chiamata a svolgere indagini alte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con particolare riguardo alla verifica di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero la parte di soggetti pubblici o privati operanti alla gestione del ciclo dei rifiuti. La commissione intende inoltre acquisire elementi di conoscenza utili ad individuare eventuali connessioni tra tali comportamenti illeciti e altre attività economiche. In tal contesto, nell'ambito dell'attività di inchiesta avviata, la commissione verifica altresì le eventuali sussistenze di attività illecite relative alla gestione dei servizi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da parte di soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo anche sistemi di affidamento dei citati servizi, nonché lo stato dell'attività di monifica dei siti risultanti inquinanti a seguito di mancato rispetto alla normativa vigente in materia ambientale. Da ultimo, ricordo che in forza della legge istitutiva della commissione, che ne ha ampliato la fattispecie oggetto di indagini, rientrano nell'inchiesta avviata anche quelle attività illecite perpetrate nel settore agricolo e alimentare, comprese quelle connesse a forma di alimentare organizzata, connesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il traffico illecito o anche trasfrontaliero dei prodotti con marchi made in Italy contraffatti o alterati. Cedo dunque la parola al dottor Pisani per lo svolgimento della sua relazione introduttiva al tema della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. 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 Do il dato di infrazione di leciti amministrativi sul controllo di merci pericolose 3.210 violazioni amministrative. Parliamo soltanto di violazioni amministrative connessi appunto al controllo del trasferto di merci pericolosi e di rifiuti pericolosi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. determina un'altra, buongiorno a tutti. La falsificazione di rifiuto pericolosi e di rifiuto pericolosi e di rifiuto pericolosi e di rifiuto pericolosi. con dei mezzi di trasporto con dei mezzi di trasporto che determinano un aumento della produzione di CO2 con un trasferimento di rifiuto all'estero che determina un aumento del costo dello smaltimento. Questo costo dello smaltimento va a incidere chiaramente sui bilanci comunali che poi si riversano sulle tasse che vengono pagate dai cittadini. L'incapacità, il gap infrastrutturale del sistema nazionale di consentire lo smaltimento dei rifiuti in ambito nazionale, soprattutto con riguardo ai rifiuti speciali e pericolosi, incide chiaramente enormemente su quelli che sono i costi aziendali. Perché nel momento in cui le aziende private produttrici di rifiuti devono affrontare un costo elevato per lo smaltimento dei rifiuti, questo elevato costo che incide potenzialmente in maniera consistente sul bilancio delle aziende, crea inevitabilmente un'induzione alla ricerca di procedure di smaltimento illecito dei rifiuti che possono abbassare i costi aziendali. Da qui abbiamo le classiche ipotesi di sversamento dei rifiuti oppure interramento dei rifiuti oppure di combustione illecita dei rifiuti. Da qui poi si arriva alla inevitabile ingerenza della criminalità organizzata perché nel momento in cui vengono realizzate queste pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti mediante interramento, sversamento o combustione dei rifiuti, essendo delle attività illecite che vengono realizzate sul territorio, inevitabilmente per la criminalità organizzata che ha il controllo del territorio diventa anche facile acquisire il controllo di queste attività illecite che necessariamente presuppongono un controllo del territorio laddove vengono realizzate. Da questo punto di vista lancio qui forse al di fuori di quella che è la mia competenza, forse andrebbe fatta una riflessione su misure di incentivazione fiscale allo smaltimento legale dei rifiuti. C'è soprattutto per il settore privato, quindi non per il settore pubblico, ma per il settore privato il cui costo dello smaltimento dei rifiuti è oggi enorme e quindi determina sostanzialmente un'incidenza fondamentale sui bilanci aziendali e addirittura lo smaltimento illegale potrebbe di fatto per la società che realizza lo smaltimento legale dei rifiuti porre in una condizione di concorrenza seleale rispetto all'altra azienda che opera nello stesso settore e che invece realizza lo smaltimento legale dei rifiuti, forse un'iniziativa di incentivazione a favorire gli imprenditori che praticano lo smaltimento legale dei rifiuti potrebbe chiaramente abbassare l'induzione a realizzare lo smaltimento illegale e quindi a diminuire in termini preventivi l'area di operatività della criminalità organizzata. Chiaramente queste criticità favoriscono l'infiltrazione della criminalità organizzata perché al di là dell'infiltrazione aborigine che si può verificare in tutti i territori nazionali così come ho detto soprattutto nel sud perché molti dei provvedimenti di scioglimento di enti locali sono anche determinati da infiltrazione della criminalità nelle procedure di gara per l'affidamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le indagini che si sono svolte ormai da tempo sul territorio nazionale hanno rilevato che anche da parte della procura di Milano, di Firenze e di Roma vi sono state indagini che hanno portato anche l'emissione di misure restrittive nei confronti di imprenditori e di società appunto per infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti. Indubbiamente questo stato di deficit infrastrutturale che determina di fatto una situazione emergenziale continua per molti enti locali sul territorio nazionale favorisce l'infiltrazione della criminalità organizzata ma impedisce anche tutta una serie di iniziative che è la trasformazione verso un'economia sempre più green perché laddove chiaramente il nostro sistema vive in un continuo stato emergenziale vi è anche la difficoltà da parte degli organi competenti e dell'amministrazione competente di avviare quei processi di rivoluzione green che consentirebbero una gestione migliore anche del rifiuto e anche del tutela dell'ambiente. Quindi da questo punto di vista sarebbe fondamentale anzitutto cercare di recuperare questo capo infrastrutturale affinché venga consentito sia alle amministrazioni pubbliche ma sia anche alle ditte private lo smaltimento dei rifiuti mediante le pratiche legali e quindi sia evitare il trasferimento dei rifiuti all'estero perché la movimentazione come ho precisato è l'area di maggiore rischio, criticità laddove chiaramente il costo del rifiuto all'estero significa un costo di smaltimento sia per l'ente pubblico che per l'azienda privata con un enorme aumento dei costi e quindi l'induzione a una serie di commissioni di reati da cui la prima la cosiddetta declassificazione del rifiuto da rifiuto magari è speciale o pericoloso il rifiuto ordinario. Consentire chiaramente avere la capacità di chiudere il cosiddetto ciclo dei rifiuti in ambito regionale o addirittura in ambito nazionale è un'iniziativa, è un obiettivo che sicuramente consentirebbe la prevenzione non solo della commissione di una serie di illeciti ambientali ma soprattutto la prevenzione dal rischio dell'infiltrazione della criminalità laddove poi chiaramente essendo il gap infrastrutturale determina di fatto un aumento dei costi l'aumento dei costi aziendali determina una induzione a una serie di pratiche illecite per favorire uno smaltimento del rifiuto che abbia un costo minore queste induzioni indubbiamente va a creare un'area grigia dove vi è lo spazio per l'infiltrazione della criminalità la criminalità organizzata nel momento dello smaltimento finale come ho detto mediante interramento, sversamento, combustione che si realizza sul territorio o altre forme di criminalità che possono essere la falsa certificazione del rifiuto la falsa documentazione di trasporto. Per quanto riguarda l'impianto normativo le modifiche che sono state apportate al codice di penale con il titolo dedicato ai reati contro l'ambiente dall'articolo 452 bis e seguenti è sicuramente allo stato sufficiente in termini di politica criminale e di repressione di quelle che sono le condotte l'attività delle forze e l'ordine anzitutto vorrei precisare che in questo settore la competenza primaria dell'arma dei carabinieri che opera con delle strutture specializzate per la repressione dei reati in materia ambientale il numero complessivo dei denunciati 2022 e dati 2023 non consolidati per tutta una serie di reati previsti dal codice penale sono comunque superiori a più di mille persone che sono state denunciate per questa tipologia di reati chiaramente a chiusura del sistema del cosiddetto ciclo dei rifiuti svolge una funzione fondamentale anche il cosiddetto sistema consortile il sistema consortile che è stato creato in Italia principalmente con l'obiettivo di ottimizzare la raccolta differenziata affinché il rifiuto differenziato possa essere trasformato in materia prima seconda e quindi evitare il consumo della materia prima originaria noi in Italia abbiamo una serie di consorsi il corepla per la plastica il polieco per il politiliene il commieco per la carta e cartone il coreve per il vetro il rilegno per il legno il ricrea per l'acciaio il cial per l'alluminio penso forse di averli menzionati tutti sono nati naturalmente questi consorsi con l'obiettivo da parte del legislatore di favorire il riciclo dei rifiuti e quindi di ottimizzare la cosiddetta raccolta differenziata la cui percentuale di raccolta differenziata che viene praticata nel nostro paese è in alcune materie a livello dello standard richiesto dalla Commissione Europea in alcuni settori addirittura superiore alla percentuale richiesta dalla Commissione Europea in altri settori ancora non ha raggiunto la percentuale richiesta dalla Commissione Europea ma anche qui vi sono degli elementi chiaramente di criticità sui quali vanno soffermati l'attenzione perché nel momento il rifiuto differenziato che va nelle cosiddette piattaforme di selezione nelle piattaforme di selezione viene sostanzialmente individuato quale percentuale di questo rifiuto differenziato è effettivamente idoneo per essere trattato ed essere dopo il trattamento essere trasformato in una materia prima-seconda per la produzione chiaramente poi della plastica del vetro cosiddetta plastica riciclato o vetro riciclato il calcolo della percentuale del rifiuto effettivamente utile ad essere trattato con una materia prima-seconda è un momento molto critico sul quale va soffermata l'attenzione perché una percentuale inferiore a quella effettivamente utile del rifiuto differenziato che è stato raccolto che cosa determina? Determina anzitutto una produzione inferiore della materia prima-seconda quindi significa poi una minore vendita del rifiuto differenziato nelle aste telematiche che vengono effettuate dal consorzio quindi significa due rischi un danno economico per quanto riguarda i comuni perché poi chiaramente ricevono i contributi in base alla percentuale di rifiuto differenziato che è stato raccolto e soprattutto in base a quello che è stato ritenuto utile ai fini della produzione di materia prima-seconda un danno chiaramente per l'industria nazionale perché nel momento in cui sul mercato viene immesso poca materia prima-seconda significa che anche l'industria nazionale del riciclo non riesce a trovare un adeguato sviluppo ma soprattutto per le industrie che producono determinati beni sono costretti a rifornirsi dalle materie prime-originarie che possono magari avere sul mercato un costo superiore alla materia prima-seconda quindi anche sul sistema consortile vanno soffermate le attenzioni perché anche il sistema consortile se non funziona adeguatamente così come nell'ottica era stato previsto dal legislatore può determinare sì un danno economico che sia chiaramente un danno ambientale perché nel momento in cui poi la percentuale di immissione sul mercato di materia prima-seconda è inferiore a quella che è la reale possibilità del sistema della raccolta differenziata determina inevitabilmente un consumo della materia prima in questo caso della materia fossile ad esempio per la produzione della plastica o della cellulosa per la produzione della carta e del cartone io avrei diciamo concluso e quindi sono poi disponibile per eventuali domande o chiarimenti ok ringrazio adesso lascio parlare ai commissari se c'è qualche domanda qualche dubbio anche se io mi sono appuntato pressoché tutto ah ok senatrice Petrucci che fra l'altro ho anticipato ho anticipato al capo della polizia che voi siete in collegamento perché state votando in commissione quindi forse non mi hai seguito ma l'ho anticipato prego no no 10 minuti l'abbiamo è stata spesa riprendiamo tra 10 minuti quindi ho seguito qualche fisco diciamo dall'inizio io volevo chiedere due cose innanzitutto grazie per la relazione e volevo sapere avete ho sentito sono state fatte circa 3200 sanzioni per quanto riguarda il trasporto volevo avere delle informazioni più dettagliate ossia dove si sono concentrate in quale diciamo regione località o area italiana dove è che sono state maggiori le sanzioni che tipologia di sanzioni è stata fatta cioè per il trasporto ma prevalentemente per trasporto di rifiuti provenienti da impianti quindi da autorizzazioni dichiarate oppure impianti oppure rifiuti praticamente non apparteneva a nessun tipo di impianto e quindi completamente nel ciclo illegale l'altra cosa è qual è eventualmente la tipologia di rifiuti che maggiormente viene sanzionato cioè qual è il codice ER e quale tipologia se pericolosi o non pericolosi l'altra cosa che volevo chiedere è quella dell'impiantistica ho sentito che c'è questo grande gap tra noi e il resto d'Europa mancanza completa degli impianti per chiudere il ciclo del trattamento dei rifiuti dove è che è emerso questo maggiore gap cioè dove quelle sono le regioni che risentano maggiormente della mancanza delle infrastrutture quindi degli impianti per chiudere il ciclo e se si tratta solo di termovalorizzatori come diceva all'inizio oppure anche di impianti che trattano altri tipi di materie cioè le materie nobili i rifiuti nobili quelli che poi i consorsi acquisiscono per dare origine alla materia prima seconda volevo sapere se sono state fatte sanzioni vari tipi e tipologia di sanzioni agli impianti esistenti sui territori quali impianti ultima domanda oppure diciamo che è abbastanza ampia come domanda ma eventualmente possiamo poi mandarvi avere per iscritto il dettaglio è la parte relativa a quella che è la normativa cioè la normativa che riguarda i consorsi noi sappiamo che i consorsi effettuano la raccolta diciamo lo smistamento viene fatta la raccolta dai vari comuni dalle variato viene mandata ai consorsi in base alla tipologia di rifiuto il consorzio dà una valutazione a quel rifiuto in base alla alla montagna di rifiuto quindi al quantitativo di rifiuto buono in peso solo plastica e quindi poco poco materiale sporco oppure o tanto materiale sporco quindi la differenza se loro hanno mai fatto degli accertamenti su questi impianti per vedere se effettivamente quello che era dichiarato piuto che arrivava e quindi dichiarato più o meno sporco una percentuale di purezza della plastica del vetro della carta e quant'altro non in realtà fosse effettivamente così cioè quello che veniva dichiarato se effettivamente poi si ritrovava nell'impianto o meno perché per i comuni vuol dire entrate o meno se arriva una plastica pulita il comune al comune viene riconosciuta una certa cifra se la plastica che arriva invece ha una purezza inferiore all'ottanta per cento al comune non viene riconosciuto quasi nulla quindi volevo sapere se erano stati fatti questi tipi di accertamento e se sì presso quale consorzi grazie scusatemi se sono stato un po' che mi dico grazie Petrucci lascio risposte prego per quanto riguarda i controlli sui trasporti anzitutto voglio fare una premessa di fondo perché poi io penso saranno diti anche il comandante generale dell'arma dei carabinieri e il comandante generale della guardia di finanza quindi per una questione anche come dire di cortesia istituzionale non vorrei toccare argomenti che rientrano diciamo nella loro competenza e che sono anche poi l'indice di quella che è l'attività che vengono svolte le loro forze di polizia perché noi siamo una forza di polizia a competenza generale e diciamo la nostra competenza è soprattutto in tutte le attività investigative che vengono svolte sul territorio di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti ma per quanto riguarda invece alcune tematiche che sono state toccate nel dettaglio dalla senatrice che significa soprattutto i controlli anzitutto nella fase dei trasporti e quindi della falsità della documentazione fiscale relativa sia alla classificazione del rifiuto e sia ai documenti di trasporto e rifiuti lì viene una competenza specifica della guardia di finanza che sono sicuramente loro in possesso dei dati per quanto riguarda i controlli poi sulle piattaforme di selezione dei consorsi perché ha toccato con precisione la senatrice l'argomento della purezza del rifiuto differenziato che poi determina la materia prima e seconda ma soprattutto determina l'entità del contributo che dal consorzio viene restituito al comune è un'attività che viene svolta principalmente dall'arma dei carabinieri io mi faccio carico sotto questi due aspetti se lei Presidente è d'accordo di indicare ai due comandanti sia dell'arma dei carabinieri sia della guardia di finanza le due richieste della senatrice perché loro sicuramente su questa entità dei controlli che vengono fatti sul trasporto dei rifiuti e sui controlli sulle piattaforme di selezione dei consorsi hanno i dati statistici dei controlli e anche delle attività che vengono svolte perché sono attività che vengono svolte dai loro reparti speciali io quando ho citato i controlli della Polizia Stradale 3200 controlli sui trasporti di merce pericolose e sicuramente posso far pervenire alla commissione la mappatura realizzata sul territorio nazionale di questi controlli quindi laddove sono stati effettuati i controlli io ho indicato questo indice per dare un'indicazione per rappresentare come si suol dire un indice sintomatico di come il trasporto e la movimentazione del rifiuto sia uno dei vulnus del sistema laddove si va è un'aria praticamente più il trasporto del rifiuto è lungo dalla produzione al momento dello smaltimento più chiaramente ne aumenta il costo e inevitabilmente vi è l'induzione alla commissione di una serie di reati tra cui falsificazione declassificazione del rifiuto falsificazione della documentazione del trasporto eccetera anche sotto questo profilo io mi faccio carico di far capitare alla commissione fare capitare alla commissione la mappatura dei controlli che sono stati effettuati dalla polizia stradale sul territorio posso anche fare capitare alla commissione quella che è l'indicazione magari negli ultimi anni delle operazioni che sono state svolte di polizia giudiziaria in materia di infiltrazione nel settore dei rifiuti da parte della comunità organizzata con le misure cautelari che sono state emesse e mi faccio carico di informare preventivamente se presidente lei è d'accordo i due comandanti dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza sulle due richieste della senatrice perché loro sicuramente più di me possono essere in grado di rispondere nel dettaglio sia per quanto riguarda i controlli sul trasporto dei rifiuti sia per quanto riguarda i controlli sulle piattaforme di selezione perché rientrano nella loro competenza specifica per quanto invece riguarda il gap infrastrutturale io così come evidenziato dei 37 se ricordo bene termo valorizzatori ad esempio dislocati sul territorio nazionale 26 sono dislocati al nord quindi già questo determina una movimentazione dei rifiuti dal sud verso il nord e purtroppo da regioni a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata rispetto alla regione di destinazione finale del rifiuto quindi questo purtroppo determina inevitabilmente anche lì un'area di criticità dove la criminalità organizzata nelle regioni di partenza del rifiuto riesce a infiltrarsi a origine per gestire poi il trasporto verso gli impianti di smaltimento che sono ubicati al nord e anche qui chiaramente la gestione del trasporto in forma legale ha un determinato costo in forma legale ha chiaramente un costo diverso e quindi costituisce un'area molto sensibile molto appetibile per la criminalità grazie ci sono altre domande senatore Lorefice sì grazie presidente grazie al capo della polizia allora io sono arrivato forse dopo qualche minuto che lei ha iniziato la relazione non penso di aver sentito alcune informazioni legate principalmente a come la polizia di stato fa anche la formazione interna al proprio personale è chiaro che sulle strade maggiori arterie perciò autostrade e statali c'è la polizia stradale lei ha evidenziato che non avete una competenza chiaramente specialistica esclusiva su questo però i controlli in buona parte li fate voi è emerso in altre audizioni da parte di alcuni procuratori della repubblica la necessità l'hanno rappresentata la commissione di aumentare il livello di conoscenza almeno di base di quei reparti nei vari apparati dello stato polizia carabinieri guardia di finanza che abbiano maggiori almeno conoscenze non parliamo di competenze specifiche e hanno portato all'attenzione della commissione qualche esempio che io replico e condivido con lei del tipo ci sono le pratiche da parte di organizzazioni criminali chiaramente che per smaltire un rifiuto liquido spesso che fanno caricano la cisterna con tanto i formulari lasciano aperta un po' la valvolina e sversano sul manto stradale per chilometri e chilometri un rifiuto speciale pericoloso quello poco importa voi con i vostri reparti chiaramente quando fate i controlli su strada in alcuni casi ho visto che hanno pure ogni tanto raramente a supporto delle unità pure per la pesatura pertanto per quanto ci è stato rappresentato da autorevoli procuratori della Repubblica come un una esigenza una necessità oggettiva lei in quanto vertice alla Polizia di Stato lei è stato rappresentato questo state pensando di aumentare il livello di conoscenza tramite formazione continua del vostro personale interno se sì come e le faccio altre due domande uno legato alla white list presso le prefetture voi spesso siete i partner privilegiati di tante prefetture in Italia lei sa benissimo che le white list vengono utilizzate come prassi per fare una sorta di verifica a monte dei requisiti di tutti quei soggetti che vogliono partecipare a gare pubbliche anche nel mondo dei rifiuti pertanto dovrebbe esserci tramite la prefettura e gli apparati poliziari essi collegati un vaglio una verifica a monte di tutti coloro di tutte le aziende che vogliono partecipare all'attività comunque a bandi pubblici e non solo anche per l'iscrizione ai registri regionali voi se venite coinvolti e in che modo e quale tipologia e verifica fate a supporto e se lei conosce il sistema della white list se lo reputa adeguato utile efficace efficiente o se ha da proporre qualche miglioramento e poi solo lei ha fatto ha parlato di incentivi alle aziende per far sì che lo smaltimento venisse incoraggiato però lei sa benissimo che ci sono varie tipologie di rifiuti la classificazione classica è urbano e speciale poi le due categorie in non pericolosi e pericolosi entriamo negli speciali una grossa fetta a livello nazionale mentre per il mondo degli imballaggi abbiamo già a monte un sistema con il sistema conai abbiamo un contributo ambientale a monte che in linea teorica dovrebbe anche essere utilizzato per campagne di informazione formazione remunerazione perciò contribuire a un sistema virtuoso cosa che non c'è negli altri comparti pertanto quando lei propone un sistema di incentivi ha già un'idea è una proposizione generica vuole mutuare un sistema come quello conai o perché un incentivo to cure è chiaro che andrebbe ribaltato all'utilizzatore finale o alle aziende legate alla filiera pertanto lo Stato dove li prende le risorse perciò in che modo la sua proposizione può essere interessante ma ha già un'idea Presidente per ora mi fermo e poi magari integro grazie se vuole faccio intervenire anche Borrelli e poi dopo risponde a entrambi e dica lei ok allora Borrelli Presidente mi vedete mi ascoltate scusatemi se io sono venuto all'inizio ma purtroppo poi c'era contemporanea commissione finanze e quindi mi sono sì sì abbiamo specificato già mi scuso perché volevo essere presente e saluto ovviamente il Dottor Pisani volevo fare due domande rapidissime la prima è complimentarmi perché di oggi è un'operazione della polizia della squadra mobile di Napoli in particolare del reparto di Scampia che ha smantellato una gestione all'interno di un campo rom Presidente è quello dove siamo andati noi per capirci dove io le suggerì di andare a fare un sopralluogo e dove ci incontrammo con tutta una serie di cittadini amministratori e soggetti che dicevano che in realtà erano tutte brave persone e che in realtà erano altri a smaltire in realtà quello che anche tramite la procura antimafia hanno fatto oggi le forze dell'ordine la polizia di Stato è stato quello di scoprire che una cosa che era sotto gli occhi di tutti arrivavano soggetti del nostro territorio della nostra della nostra nazione con rifiuti speciali compresi rifiuti speciali estremamente inquinanti tipo i copertoni delle macchine poi bruciati o dei camion e in cambio di denaro i rom li smastivano questo è stato fatto oggi con l'arresto di quattro persone io mi complimento di questa cosa ma sottolineo un fatto non è una novità e chiedo al dottor Pisani di sapere in che modo per essere operativi noi possiamo supportare o quali sono ulteriori strumenti che alla polizia di stato possono essere utili per fronteggiare lo smaltimento illecito illegale pericoloso per la salute che viene svolto tra l'altro in quel caso specifico a Scampia voglio sottolineare che c'erano tantissimi bambini di etnia rom che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di salvare ma a fianco c'è una scuola a fianco c'è una scuola concludo facendo però una piccola considerazione su un aspetto che stavo detto è vero che la gran parte degli impianti di termovalorizzazione o di incenerimento come le vogliamo definire stanno al nord è pur vero che al sud il movimento di mezzi che arriva al sud o che è arrivato al sud come è stato riscoperto purtroppo con la storia della terra dei fuochi erano industrie o grossi imprenditori del nord che venivano a sversare con la complicità della camorra sui nostri territori inquinando il territorio del sud quindi il rischio che corriamo è che verso il nord vengono smaltiti diciamo anche perché purtroppo dal punto di vista industriale il sud è desertificato verso il nord arrivano rifiuti casomai di piccole aziende o di roba così mentre invece è ancora possibile che dal nord possano scendere rifiuti speciali pesanti fusti altamente inquinanti e dannosi per la salute per questa ragione la mia richiesta al dottor Pisani è di sapere quali potrebbero essere quale potrebbe essere l'attività che tramite la commissione Ecomafia può essere messa in piedi per proporre delle proposte normative o dei fondi speciali o l'istituzione o l'implementazione di un organo che la Polizia di Stato ritiene utile a fronteggiare quello che è uno dei grandi temi del nostro paese e cioè l'Ecomafia grazie grazie non vedo ah Iaia grazie presidente buongiorno dottor Pisani soltanto qualche chiarimento la nostra è una commissione di studio e di indagine riguardo il ciclo dei rifiuti lei correttamente noi condividiamo ha rappresentato le criticità riguardo la mancata e chiusura del ciclo dei rifiuti soprattutto nelle regioni del sud e questo è un dato di fatto penso per esempio alla mia regione la Puglia che ha soltanto due termovalorizzatori a differenza per esempio della Lombardia che ne ha 13 o dell'Emilia Romagna che ne ha mi pare 9 e chiaramente la mancanza di questi impianti quindi della chiusura del ciclo dei rifiuti è l'uso delle discariche con costi esorbitanti perché questa è la verità parliamo di 150-200 euro a tonnellate e anche di più in alcuni casi porta e non è questa chiaramente una giustificazione i privati ma anche le imprese a scegliere altre strade per quanto riguarda lo smaltimento di questi rifiuti detto questo due domande rapidissime nell'ambito del business della criminalità organizzata quale ruolo ha e quale rilievo ha il traffico illecito dei rifiuti rispetto al business complessivo e poi se voi avete degli elementi derivanti chiaramente dalle indagini da inchieste che avete svolto eccetera per far comprendere a questa commissione se questi utili che rinvengono da questo traffico illecito dei rifiuti in parte o completamente ci spiegherà chiaramente lei in base ai dati che sono a sua disposizione vengono utilizzati per quanto riguarda l'alimentazione di altri traffici quindi penso per esempio alla droga penso per esempio alle armi quindi che collegamento c'è tra gli utili derivanti dal traffico illecito dei rifiuti e il mercato delle armi e della droga grazie grazie prego parto dalle domande poste al senatore Refice la polizia stradale la polizia stradale nasce storicamente chiaramente per una competenza molto specifica che sono le infrazioni al codice della strada e su questo si sta facendo una riflessione se estendere le competenze della polizia stradale anche in materia ambientale al momento del trasporto perché come ho detto prima poiché sostanzialmente il trasporto dei rifiuti sulla strada quindi non solo via mare in alcuni casi perché sappiamo ad esempio che alcuni trasporti rifiuti avvenivano via mare tramite il porto di Cidiovecchia oltre ai trasporti rifiuti avvengono via treno se il trasporto dei rifiuti sulla strada che oggi è diventato assolutamente consistente per tutti i motivi che abbiamo detto per le distanze enormi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento ampliare le competenze della polizia stradale in materia ambientale perché chiaramente in quel caso non si tratta soltanto di andare ad accertare infrazione al codice della strada così come primo detto di infrazione al trasporto di merci pericolosi ma si tratta anche di andare ad accertare con una competenza specifica soprattutto la regolarità della documentazione di trasporto su questo va fatta una precisazione perché chiaramente incide in quel momento la capacità dell'organo accettatore di andare a verificare se la documentazione di trasporto sia corrispondente alla tipologia di rifiuto e se la documentazione relativa alla classificazione del rifiuto sia una documentazione originariamente così dire veritiera oppure aborigine falsa si tratta attualmente non voglio assolutamente negarlo di competenze che la polizia stradale non ha sulla quale si sta facendo una riflessione perché in una fase di riorganizzazione della polizia di stato dell'atto ordinativo unico che deve essere concluso entro dicembre 24 si sta discutendo anche di questa possibilità si ampliare le competenze della polizia stradale in materia di controllo ambientale chiaramente questa è una questione che va affrontata d'intesa con le altre forze di polizia perché nel 2017 vi è stata la normativa quando fu realizzata la chiusura dell'assorbimento da parte della polizia forestale della polizia forestale da parte dell'arma dei carabinieri sono state riordinate le competenze specialistiche per materia delle varie forze di polizia e la competenza in materia ambientale è stata affidata soprattutto all'arma dei carabinieri per quanto riguarda l'agroalimentare e l'ambientale e alla guardia di finanza per quanto riguarda i controlli fiscali di regolarità della documentazione relativa ai due settori va sicuramente fatto un attimo di riflessione perché oggettivamente oggi essendo aumentato di gran lunga per il gap infrastrutturale il trasporto anche su ruote del rifiuto e quindi l'opportunità dei controlli per strada di andare ad individuare un'area di competenza della polizia stradale anche in questo settore che determina chiaramente una necessità di formazione specifica la polizia di stato come ho detto è principalmente deputata nel suo storicamente contrasto alle attività criminali soprattutto al così come l'operazione che è stata citata dal senatore Borrelli che è stata fatta questa mania a Napoli all'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore e quindi anche al compimento di una serie di reati fine che possono essere commessi dalle organizzazioni di stampo camorristico di stampo mafioso sul territorio nel sud Italia relativamente sia all'infiltrazione nelle procedure di gare che poi all'irregolare smaltimento dei rifiuti ma in questo caso si tratta sempre di indagini che non nascono con l'obiettivo di andare a colpire il reato fine perché il reato fine è nell'ambito delle ripartizioni di competenza di competenza dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza si tratta di risultati finali che nascono con l'obiettivo di colpire l'indagine che nasce verso l'organizzazione criminale nell'indagine verso l'organizzazione criminale e poi si scopre che tra i reati fini commessi dall'organizzazione criminale non c'è soltanto il traffico di drogo e il traffico di armi ma c'è anche l'infiltrazione nella gestione illecita dei rifiuti le guattilisti le guattilisti sono sicuramente uno strumento di grande utilità di grande utilità io lo ritengo partecipano nelle prefetture del cosiddetto gruppo GIA che è composto dal rappresentante della polizia di stato dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza e della DIA presieduto generalmente da un vice prefetto delegato dal prefetto che provvede sia alle questioni relative all'emissione delle interdittive antimafie sia anche alla verifica dei presupposti per la cosiddetta della guattiliste la guattilisti sicuramente agevola di gran lunga la contrattazione da parte della pubblica amministrazione perché nel momento in cui viene bandito una gara d'appalto e il soggetto è inserito in una guattiliste mentre un tempo bisognava poi chiedere la certificazione antimafia sia per la partecipazione alla gara ma anche per la contrattazione successiva la guattilista agevola sicuramente il momento di contrattazione anche da parte della pubblica amministrazione vi è chiaramente periodicamente l'aggiornamento delle guattiliste quindi vengono svolte le sedute in prefettura affinché si vada a verificare se la ditta che è inserita in guattiliste sono mutati i presupposti informativi e quindi deve essere rimossa dalla guattiliste oppure ne sono ancora sussistenti i presupposti diciamo di onorabilità e di regolarità e quindi di non infiltrazioni che consentono di mantenere la società nella guattiliste sicuramente è un sistema molto funzionale che agevola a dire a lungo le procedure di gara e la capacità di contrattazione della pubblica amministrazione peraltro sull'interdittiva antimafia noi di recente ci stiamo facendo promotori sia la DIA che dipende dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza che la Direzione Centrale Anticrimine di un'ulteriore direttiva che verrà emanata agli organi territoriali sulla base di quella che è una sentenza fatta dalla terza sezione del Consiglio di Stato pochi anni fa con il Presidente Maruotti che attualmente è Presidente del Consiglio di Stato in cui sono stati indicati in maniera anche tassativa direi quelli che sono gli indici che devono essere tenuti presenti nell'emissione di un'interdittiva antimafia questo perché chiaramente bisogna uniformare assolutamente sul territorio nazionale i procedimenti di valutazione per l'emissione dell'interdittiva antimafia affinché vi sia anche non solo un rigoroso intervento in termini di emissione di un'interdittiva antimafia ma anche di valutazione di quelle che sono la sussistenza reale dei presupposti per evitare che una misura come questa che è fortemente invasiva dell'economia sia fortemente anticipata come soglia quindi poi anche con delle conseguenze per quanto riguarda l'operatività delle aziende quindi anche sotto questo profilo noi ci stiamo facendo carico dell'emissione di una circolare che vada a richiamare i nostri organi territoriali affinché quelli che sono stati i parametri di valutazione indicati dal Consiglio di Stato vengono chiaramente pienamente rispettati sia in termini positivi che in termini chiaramente negativi l'incentivo il mio chiaramente era una come dire un invito a considerare alla politica questa questione perché è inevitabile che in un sistema nazionale che non è in grado di offrire da un punto di vista infrastrutturale una capacità di chiudere il ciclo dei rifiuti questa diciamo incapacità complessiva del sistema nazionale va a incidere sui costi aziendali la capacità chiaramente questa mancanza di capacità incidendo sui costi aziendali è inevitabile che pone l'azienda italiana che deve affrontare un maggior costo per lo smaltimento di rifiuti se un'azienda che opera su un mercato internazionale o su un mercato europeo si trova chiaramente in una posizione di concorrenza deficitaria rispetto a un'altra società europea dove magari nel proprio paese l'infrastruttura offerta dallo Stato per lo smaltimento dei rifiuti consente chiaramente all'azienda di smaltire di avere un costo aziendale di smaltimento inferiore e quindi chiaramente di avere meno costi aziendali e quindi di essere maggiormente concorrente sul mercato è una riflessione che io chiaramente mi ponevo così mi ponevo all'attenzione complessivamente della politica se valutare laddove determinati smaltimenti e rifiuti speciali o pericolosi che hanno un determinato costo oltre chiaramente a costituire un incentivo purtroppo alle pratiche illegali determinano di fatto poi un aggravio dei costi aziendali e quindi pongono le nostre aziende italiane in un rapporto di concorrenza con le altre aziende europee o mondiali che operano nello stesso settore in difficoltà per quanto riguarda l'intervento del senatore Borrelli lo ringrazio per i complimenti che sono stati fatti stamattina dall'operazione della squadra mobile di Napoli con la Sisco che è appunto la sezione che opera in materia di criminalità organizzata io devo dire che gli strumenti che sono posti a disposizione della Polizia di Stato e anche delle altre forze di Polizia per quanto riguarda le indagini a competenza generale di contrasto alla criminalità organizzata sono degli strumenti abbastanza sufficienti anzi direi se noi andiamo a guardare il panorama europeo della normativa europea le forze di Polizia italiana nella fase delle indagini preliminari hanno una serie di strumenti che le forze di Polizia europee non hanno in termini soprattutto di attività di intercettazione o anche di altre attività invasive che possono essere compiute nella fase delle indagini preliminari la stessa misura interdittiva antimafia è una misura interdittiva che esiste nella normativa italiana le stesse misure di prevenzione che possono portare al sequestro beni sono delle misure che esistono esclusivamente nella normativa italiana quindi da questo punto di vista debbo ritenere che la normativa italiana è all'avanguardia rispetto alla normativa europea in termini di strumenti normativi a disposizione delle forze di polizia forse perché più degli altri abbiamo pagato l'origine autoctona di determinati fenomeni criminali quindi prima degli altri abbiamo avuto necessità degli altri sistemi europei abbiamo avuto la necessità di dotarci di strumenti che mettessero in condizioni sia l'autorità giudiziale che le forze di polizia di poter affrontare la questione per quanto riguarda l'ultima domanda che mi è stata posta indubbiamente non si può escludere che la cassa unica della criminalità organizzata per il principio dei vasi comunicanti possa determinare sia che i guadagni del traffico di droga possono poi finanziare le attività imprenditoriali di copertura nel settore del traffico dei rifiuti sia che i proventi provenienti dal traffico dei rifiuti possono poi nella cassa del clan essere utilizzati per finanziare principalmente il traffico di droga perché del traffico di armi generalmente è una storicamente almeno per quanto riguarda le organizzazioni criminali italiane è un traffico finalizzato a quella fornitura che possa garantire la capacità armata dell'organizzazione mentre il traffico di droga è chiaramente un traffico finalizzato a commercio in termini quantitativi magari per l'organizzazione criminale il più possibile grandi per favorirne poi lo spaccio l'immissione sul mercato e quindi aumentare i guadagni indubbiamente per il principio dei vasi comunicanti la cassa della criminalità organizzata poi alimentata da una qualsiasi dell'attività illecita può essere poi utilizzata anche per supportare la commissione di reati classici della criminalità organizzata che sono appunto principalmente il traffico di sostanze stupefacenti ok se non abbiamo più domande giusto una che è un passaggio dalle varie audizioni anche andando su territorio e anche quelli che sono i procuratori è emerso che probabilmente uno strumento più utile per le forze dell'ordine in questo caso che fanno questi controlli sarebbe l'inasprimento di alcune pene che permetterebbe a loro di trasformare dal regime se vogliamo sanzionatorio a un vero e proprio arresto in fragranza per determinati sversamenti di rifiuti o altro noi presenteremo come commissione una proposta in tal senso poi magari le chiederemo visto che lei comunque è sul campo e ha sicuramente molte più esperienze capaci di noi un parere per cercare di equilibrare e di parametrare quello che sarà l'aumento in un'asperimento di queste pene per dare le forze dell'ordine uno strumento per poter agire con maggiore efficacia ecco quindi ecco a questo punto la ringrazio Presidente dell'Input perché facciamo in via preventiva verificare uno studio anzitutto sui numeri dei denunciati per una serie di reati che sono previsti dal 452 bis del codice penale seguenti o anche dalle leggi speciali che hanno portato delle denunce a piede libero laddove vi è una reiterazione di questi reati anche in proporzione a quello che i danni ambientali che vengono effettuate viene poi realizzato da queste condotte se è il caso per l'appunto di intervenire con una misura maggiormente restrittiva che è quello dell'arresto 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 in flagranza grazie non ci sono più interventi no Rubano grazie Presidente soltanto una presa d'atto a nome del gruppo Forza Italia di questa significativa audizione quindi pertanto ringraziamo questa Presidenza per averla voluta determinata determinare e ringraziamo anche i colleghi il Capo della Polizia per il confronto e gli input che tutti abbiamo generato non abbiamo fatto alcun intervento perché ritengo esaustive sia le rappresentazioni che sono state rese dal Dottore Pisani che ringrazio particolarmente per quello che ha fatto che fa e continuerà a fare per il nostro Stato e ringrazio anche i colleghi per il qualificato contributo e sono sicuro che questa Presidenza accrescerà questa sinergia istituzionale per l'interesse del nostro Paese grazie grazie ringrazio tutti i colleghi e dichiaro chiusa l'audizione grazie a tutti i nostri